Musica Non mancherai delle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin di pass battaglia o V-Bucks Dovremmo appunto munirci di un veicolo, un'auto, un'elicottero e molto altro E appunto dovremmo fare danno agli avversari Io sono qui in laboratorio quindi spawno i bot Quindi spawno il bot Prendo l'auto Gli vado incontro E gli faccio danno Infatti ho fatto 60-50 di danno Quindi sfia semplicissima Eseguiti i danni che vi chiede la sfida E l'avete completato Devi farla anche con una barca, con un'elicottero Quindi comunque qualsiasi veicolo lo trovate qui all'interno della mappa Infatti ecco qui l'abbiamo addirittura ucciso Quindi davvero sfida semplicissima E come vedete come al solito in pochissimo tempo Quindi spero che questo video sia stato d'aiuto per capire come completare questa semplicissima sfida Se è così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche Così se siamo aggiornati su questi video e like con lo skinno Paso Taglia Infine condividete questo video Noi ci vediamo un prossimo video Alla prossima like Grazie 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 Grazie